Weekend calcistico fondamentalmente positivo per le squadre ioniche, partendo dall'eccellenza dove il Giarre di Beppe Mascala vince a casa dell'allenatore per 1-0, decisivo per battere il Caltagirone e il rigore trasformato da Antonino Carbonaro al 55esimo, sempre più rigorista ufficiale, il classe 89. Con questo successo il Giarre sale dopo 14 partiti a quota 25 e rosicchia punti importanti al Rosolini sconfitto dal Camaro e allo Scordia fermato dallo 0-0 di Biancavilla, playoff distanti, solo un punto. Molto più distante dai playoff è in promozione l'Atletico Fiumefreddo. All'Angelo Rossi viene regolato con un 3-1 il Trecastagni, Mattatore e Garozzo con una doppietta, gole assist per Ardizzone. Malgrado 7 punti in 3 partite e quota 20 punti raggiunta, la squadra di Giancarlo Fichera è sempre a meno 8 dalle posizioni importanti. Terzo pareggio consecutivo in casa per la Russo Calcio. In prima categoria la sfida della decima giornata contro il Pisano termina 2-2. Parte forte la squadra di casa trovando il gol dopo 8 minuti con Belfiore, pareggiato al ventesimo da Sciacca. Nuovo vantaggio ripostese al sessantesimo con Finocchiaro, ma il Pisano in piena bagarre playoff trova il secondo definitivo pareggio al settantanovesimo con Ventura. Buonissima prova dell'undici di Mister Musumeci con Cisterna, Muro, tre pali malgrado i gol presi. In seconda categoria Unplane nel girone D dove vincono sia il Calatabbiano 2-0 in casa contro il Furcisiculo che la giovanile Mascali 2-0 a domicilio dell'Itala, rimanendo rispettivamente quarta e terza forza del girone in piena corsa per il primo posto occupato dal Limina. Nel girone è brutta sconfitta casalinga del riposto targato Tomaselli, 1-2 nello scontro diretto di bassa classifica con il Branciforti che con Gervasi pareggia il vantaggio ripostese di Derrigo e poi a metà ripresa sigla e sorpasso con Licata. Il riposto ci prova fino alla fine, annullato anche il pareggio a Coppola, ma i tre punti vanno al Branciforti che così da penultimo in classifica si porta a meno uno dai gialloverdi, sempre più in pericolo. Diametralmente opposta la situazione del calcio giarre, vincente al regionale con il minimo scarto e soprattutto a meno uno ma dalla capolista Villaggio Sant'Agata che non va oltre lo 0-0 nel derby d'alta classifica con il Catania FC. A decidere la sfida con l'atletico Mascaluccia il penalty trasformato all'ottantesimo da Marco Finocchiaro. Chiude la lista il Fuzz al Giarre. Brutta e dolorosa sconfitta per i ragazzi di Alfio Rao nel derby Casalingo contro il fortissimo Acireale. 1-6 il finale, unico gol di Chilleri, con energie soprattutto mentali adesso rivolte al ritorno di Coppola Trinacria per ribaltare la serie a fiume freddo.